questa è la foto della mia famiglia quante persone ci sono ci sono sette persone mio padre mia madre mio fratello le mie due sorelle i miei due nonni la mia famiglia è più piccola siamo solo in tre noi però abbiamo anche un cane pinky e un gatto sammy che bello a me piacciono tanto gli animali se vuoi puoi giocare con i miei grazie